Oggi per scrittura in viaggio vi parlo da Roma. Roma è bellezza, con tutte le sue difficoltà che può avere una città così grande, ma in qualunque punto tu possa guardare, tu possa voltarti, vedi qualcosa di bello. Per cui vi voglio suggerire un piccolo esercizio di scrittura consapevole sulla bellezza. In genere noi usiamo molto la scrittura per andare ad individuare i nostri blocchi, le nostre paure, ma questa volta una scrittura su quello che c'è di bello in voi, su quello che ritenete bello di voi come persone. Prendetevi del tempo e dedicate una pagina, due, concentrandovi esclusivamente sulla vostra bellezza. Da questa città non potevo davvero suggerirvi altro, per cui buona, buonissima scrittura. Grazie.